Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi non inauguro le campanelle della chiesa di Booktube ma bensì volevo portarvi un video che in realtà è un po' a caso, quindi lo capirete perché è tutto a braccio, questo video non ho scritto nulla però stavo guardando la libreria perché sto preparando un mega hand haul perché a me gli haul non piacciono ma di hand haul potrei farne per mesi ma mentre stavo dividendo un po' la libreria tra ciò che voglio tenere e ciò che non voglio tenere ho preso in mano questi libri dei quali vi parlerò fra poco che io posseggo veramente da una vita cioè più di almeno 3-4 anni, alcuni addirittura da ben prima, che non ho mai letto però da un lato io non me ne voglio liberare perché sono cose che comunque mi ispirano quindi ora io vi farò un video dove vi parlo dei titoli che ho da più tempo in libreria che comunque vorrò leggere prima o poi non si sa quanto, forse solo nella tomba però che ho tenuto e magari parlandone con voi un pochino mi viene voglia e boh non lo so vabbè, abbiate pazienza il primo titolo che penso sia forse anche il più conosciuto di tutta questa pila di libri che vi farò vedere è questo sì, sapevatelo, io non ho mai letto In the name of the wind di Patrick Rothfuss allora, partiamo dal presupposto questa edizione è anche vecchiotta ma io la comprai proprio per botta di culo quando andai da Mercatopoli qua vicino non so perché, mi ricordo che almeno 4 anni fa ci fu un'ondata o un'intera sezione di Mercatopoli sulla parte libri che aveva un sacco di titoli fantasy in lingua non so chi se ne sia sbarazzato, se lo riconoscete, ce l'ho io, sappiatelo e io l'ho pagato tipo 2 euro questa cosa qua è usata, si vede, ma io ho sempre detto che non sono neanche una super attaccata cioè è tenuta abbastanza bene, si vede solo la costina un po' rovinata però l'edizione per essere un paperback è davvero molto bella e ne sentivo parlare da un bel po' quindi insomma ho detto vabbè lo compro così lo leggo è lì, fermo, anche perché mi spaventa un po' la mole e quindi forse è anche quello che mi condiziona però cosa racconta in The Name of the Wind? so che voi direte ma perché ce lo stai dicendo che lo sappiamo già tutti però magari fra qualcuno di voi ci sono quelli che come me hanno anche dimenticato di che cosa parlano questi libri e dentro il libro noi troviamo questo personaggio che sotto le mentite spoglie di un'oste in realtà è uno dei maghi più potenti della sua era si chiama Kvothe almeno spero si pronunci così e un giorno incontra uno storico che lo va a trovare nella locanda e che lo riconosce e si fa raccontare tutta la sua storia e gli chiede un po' com'è andata e com'è arrivato diciamo lì e quindi noi seguiamo tutta la storia dell'infanzia di Kvothe fino a diventare il mago più potente della sua era come ci viene poi presentato all'interno del libro insomma seguiremo tutte le sue vicende tutte le avventure che lo hanno caratterizzato insomma devo dire che a parte che qua mi spaventa un po' la mole sono molto sincera ma lo trovo una storia molto interessante anzi molto avventurosa anche particolare nel tipo di impostazione eccetera quindi insomma devo dire che mi ispira molto ho sentito sempre gente amarlo alla follia oppure assolutamente non averlo apprezzato quindi c'è anche qua una grossa divisione di chi l'ha letto quindi insomma se lo avete letto mi raccomando ditemi cosa ne pensate in modo che magari non so qualcuno di voi l'ha amato, l'ha adorato eccetera mi motiva un pochino nel leggerlo non so, vedremo altro titolo che invece ho acquistato proprio insieme a In the Name of the Wind nella stessa occasione è Incarceron Incarceron, Incarceron, Incarceron di Catherine Fisher cioè come potete vedere già questa edizione che è un paperback, è una ristampa non è l'edizione originale questa è una ristampa del 2010 quindi immaginatevi cioè così insomma è già bellissima quindi mi aveva molto attirato devo dire poi insomma anche questo questo costava 3 euro invece che 2 potevo lasciarlo lì è tenuto benissimo per me non è neanche mai stato letto è utilizzato vi sono sincera è intatto è intonso e questo è uno di quei libri che per diverso tempo è stato molto popolare comunque molto conosciuto e molto letto soprattutto nella community italiana perché ne hanno fatto la traduzione la storia segue questo Incarceron che è una sorta di prigione invisibile super tecnologica che è guidata da un grande fratello che tutto sa tutto controlla ed è spietatissimo all'interno di questo carcere la violenza è ciò che la fa da padrone e non ha mai scrupoli dentro questo carcere è imprigionato Finn che sarà il nostro protagonista e lui non ha assolutamente nessun ricordo né della sua infanzia né di come si è arrivato lì però inizia ad avere le visioni e ha un'unica certezza lui lì non ci è nato e deve trovare il modo di fuggire anche se è ovviamente difficilissimo impossibile dall'altro lato invece noi seguiamo Claudia che è la figlia del direttore che purtroppo per lei vive una sorta di altra realtà parallela perché il padre le ha già confezionato tutta la sua vita e già ha deciso tutto ciò che dovrà fare l'ha già promessa in sposa a un uomo davvero molto improbabile che lei non ama e con il quale non vuole avere assolutamente nulla a che fare e i due non so bene come si ritroveranno uniti dal ritrovamento di una chiave che forse segnerà la loro salvezza non lo so a me come trama ispira davvero tanto e mi sembra davvero assolutamente interessante però da un lato forse lo sto rimandando da troppo perché noto alcuni cliché già nella trama iniziale quindi ho un po' paura di queste cose qui però effettivamente è anche un libro del 2007 quindi risente anche di 11 anni di storie alle spalle dove ci sono state molte evoluzioni dopo però effettivamente non lo so mi ispira parecchio quindi se voi l'avete letto fatemelo sapere se non l'avete letto questo video sarà poi tutto così se l'avete letto giù ditemelo se vi è piaciuto se non vi è piaciuto se invece non l'avete letto ma qualcosa di quello che vi farò vedere vi ispira possiamo motivarci a vicenda sia a leggerlo che a continuare a leggere insieme insomma questa è una cosa che secondo me può essere anche lo scopo di tutto questo video delirante detto ciò questo in carceron ho anche un'edizione davvero bellina molto curata e tutto quindi mi ispira proprio tanto speriamo che un altro libro che è sempre del 2007 ma io ce l'ho solo dal 2010 ma che è fermo lì è The Book of Lost Things di John Connolly e allora al di là del fatto che sia esteticamente graficamente bellissimo secondo me ovviamente a mio gusto io amo queste copertine minimali molto grafiche con tra l'altro bianco, ross e nero che sono i miei colori preferiti insomma mi piace molto i colori non colori rossi è un colore vabbè detto ciò che cosa racconta The Book of Lost Things racconta la storia di David che ha 12 anni e ha appena perso la madre e l'unico modo con cui riesce a consolarsi è leggendo continuamente i libri presenti nella sua libreria ma a un certo punto questi libri di notte iniziano proprio a parlargli iniziano a farsi sentire e inizia a notare che la realtà fuori dalla camera e ciò che invece succede nei mondi immaginari inizia a fondersi e non riesce più a distinguere cosa è vero da cosa non lo è allora c'è pochissime cose su questo libro non so bene dirvi perché non l'ho letto forse perché ho paura che sia una storia davvero molto intima perché infatti questo viene considerato uno di quei diciamo prequel a sette minuti dopo la mezzanotte una storia molto commovente dove la realtà e la finzione servono semplicemente come strumenti psicologici per avere a che fare con un tema così forte come il lutto come superare la sindrome prostraumatica devo dirvi che mi ispira davvero tanto vorrei leggerlo ma non trovo mai il momento giusto dove sono psicologicamente assolutamente preparata pronta a buttarmi ci si non lo so se lo avete letto però invece voglio sapere assolutamente cosa ne pensate magari è uno di quei libri da leggere durante un periodo dove hai degli svaghi hai qualcosa che poi ti riesci a tirare su come magari possono essere le feste chi lo sa in ogni caso già parlandovene comunque sono rientrata un po' nel loop delle cose molto belle da leggere insomma lo trovo qualcosa di valido ma devo trovare la motivazione quindi ci sentiamo giù nei commenti se lo avete letto se non l'avete letto ma vi ispira magari ci sentiamo per organizzarci altro libro che è nella mia TBR e anche sui miei scaffali davvero da un'eternità cioè dal 2015 2015-2018 da tre anni è già tanto è A Thousand Nights di E.K. Johnston allora questo praticamente è il retelling delle mille una notte infatti noi abbiamo L'Omel Keen che è questo re che ha ucciso più di 300 ragazze alla prima notte di nozze e che arriva nel villaggio della nostra protagonista per cercare una moglie la nostra protagonista pur di salvare sua sorella si offre volontaria e inspiegabilmente riesce a trovare una tattica la storia delle mille una notte la sappiamo un po' tutte una tattica per distrarre L'Omel Keen e inizia a conoscerlo e sopravvive la prima notte e sopravvive sempre di più il problema è che se da un lato era sempre stato conosciuto come un mostro la nostra protagonista inizia a vedere L'Omel Keen come qualcosa di diverso a scoprire tanti risvolti un po' più tenebrosi però insomma rischia di innamorarsi di qualcosa che poi dovrà un attimo farci conti allora io ho letto come retelling delle mille una notte ovviamente The Wrath and the Dawn ovvero la moglie del califo di René Adie che a me è piaciuto tanto quindi in realtà come storia alle mille una notte poi io ho questa grande fascinazione per il mondo arabo non riesco davvero a capire tra l'altro non so se riuscite a cogliere la bellezza di questa copertina con la sovracopertina cioè è qualcosa di pazzesco però ve lo giuro non ho mai sentito da un lato qualcuno che l'abbia letto e forse che avevo già letto The Wrath and the Dawn quindi non ero super pronta a ributtarmi su una storia di retelling delle mille una notte però non lo so Thousand Nights per me è uno di quei titoli che un giorno mi dico proprio adesso lo leggerò mi ci butterò inizierò a leggerlo se lo avete letto altra vergogna della mia TBR è sicuramente The Unbecoming Hang of Mara Dyer che credo sia stato anche tradotto in italiano ma io non ho fatto ricerche quindi abbiate pazienza comunque questa è una serie molto famosa Young Adult che unisce invece degli elementi crime mystery eccetera eccetera davvero molto popolare soprattutto su Booktube America che ultimamente è stata un po' dimenticata ma in realtà per anni è davvero stata super super popolare infatti io penso di avere questo volume anche tutto rovinato dal 2014 Mara Dyer è una ragazza che si sveglia in un ospedale dopo aver avuto un incidente catastrofico non ricordando più niente eppure in questo incidente sono morti sia il suo ragazzo che due dei suoi migliori amici non riuscendo a ricostruire il perché e come di tutto questo incidente dopo una terapia le consigliano di ritrasferirsi e ricominciare da capo anche perché non riesce proprio a ritrovare la memoria ma una volta trasferita ed effettivamente ha iniziato la sua nuova vita inizia a vedere le persone morte quindi inizia a rivedere sia il suo ragazzo che i suoi amici che sono però morti e soprattutto scopre di riuscire a vedere la morte di alcune persone prima che queste avvengano e quindi Mara deve capire cosa sta succedendo che cosa sta accadendo alla sua vita e perché non ricorda nulla venire a capo di questo grande mistero che sembra davvero troppo grande per lei e niente a me cioè come storia è assolutamente super intrigante io non sono premetto una grandissima fan dei crime dei gialli eccetera eccetera però ne hanno sempre parlato tutti benissimo di questa storia sono davvero sempre stata incuriosita forse non ho mai trovato il momento io leggo pochissimi gialli durante l'anno ripeto l'unico che leggo e che amo con tutto il cuore ormai è la serie di Robert Galbraith e poco non è proprio il mio genere però questo se qualcuno di voi mi dà un po' di motivazione io forse lo porto a casa entro la fine dell'anno oppure all'inizio dell'anno prossimo dai cioè qualcuno lo deve aver letto e amato per favore cioè datemi un po' di allora questo è veramente forse il libro più vergogna di tutto quello che vedrete ma semplicemente perché è il libro più bello che io posseggo oggettivamente e ha davvero tutti gli elementi che a me piacciono e stiamo parlando di The Sorcerer to the Crown di Zen Cho cioè non credo neanche ci sia bisogno di non so neanche esprimere è tutto un rilievo embossed oro e nero con questi arzigogoli barocchi attorno c'è questa grande cioè è oggettivamente un libro bellissimo esteticamente non so perché l'ho comprato gasatissimo appena uscì perché adesso vi leggo la trama o ve la spiego insomma è anche firmato perché avevo trovato l'edizione di Forbidden Planet e ha un prezzo stracciato ma è sempre rimasto lì a prendere della polvere è proprio questo è un ciappapolver che è veramente detto ciò seguiamo la storia di Zacharias White che è il primo mago di origine africana che fa parte invece dell'elite inglese e lo mettono a dirigere la reale società della filosofia non naturale che detto così non ha senso però sto traducendo in italiano una cosa che in italiano non c'è ma qualcuno fa di tutto per rimuoverlo dalla sua posizione ed iniziano a succedere cose e a vedere gente e infatti il suo compito principale all'interno della società è quello di mantenere stabili i livelli di magia nei regni di sua maestà perché c'è qualcosa che sta bloccando il livello magico e la court of fairy quindi penso la corte delle fate sta bloccando l'approvvigionamento delle risorse magiche in tutti i territori insomma incontrando un personaggio di nome prunella sembra che i destini di entrambi diventeranno legati proprio per salvare la reale società allora come capite è estremamente interessante ambientato nella Londra regency quindi poco all'inizio o poco prima dell'epoca vittoriana si parla di magia fairy ci sono le fate coinvolte insomma secondo me ha tutti gli elementi anche estremamente originale con tutto ciò che cioè quindi se l'avete letto sapete già che dovete scrivermi giù nei commenti o comunque motiviamoci a vicenda per leggere anche questo boh io direi che oggi il video a caso con libri che stavo mettendo a posto possiamo anche finirla qua avete un po' anche voi però immagino quei libri che avete in libreria ma dei quali non volete liberarvi perché insomma sapete che prima o poi ci arriverete quando avete finito le vostre 8000 letture e quando smetterete di ordinare dei libri o quando la vostra casa verrà isolata e Amazon non arriverà più o non avrete più contatti con l'esterno vi chiuderete effettivamente in casa magari arriverà il momento di leggerli questi erano i miei ma sono anche curiosa di sapere quali sono un po' le vergogne della vostra TBR presente sui vostri scaffali insomma e niente io spero che il video comunque vi sia risultato interessante un po' a caso io i book haul e queste cose faccio una gran fatica a farli perché non so bene come argomentare di cosa parlarvi quindi insomma queste sono le cose che mi ispirano ci sentiamo giù nei commenti come sempre vi ricordo che ovviamente giù trovate tutti i miei link ai social il mio link di affiliazione a Amazon e se volete anche offrirmi un caffè c'è il link a Ko-fi mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina come sempre io spero di avervi tenuto compagnia con questo video e direi che ci vediamo al prossimo ciao ciao